Buongiorno a tutti, sono l'ingegnere Valeria Erbola, Presidente di Anit. Anit è un'associazione che da più di 35 anni si occupa di efficienza energetica e conforto a costituzione edilizia. Siamo lieti anche quest'anno di essere alla manifestazione Clima House 2021, anche se virtualmente, e di sostenere Ursa, che è una delle nostre aziende associate, anche più storiche negli anni ovviamente. Ursa è un'azienda che si occupa di efficienza energetica, di conforto acustico, ma soprattutto ha una visione molto sostenibile, una visione di sostenibilità ambientale e da sempre, anche durante la manifestazione con l'Isola Ursa, ha fatto formazione sia ai professionisti che ai giovani e questo è molto importante dal nostro punto di vista ed è per quello anche che ci teniamo a sostenerla. Anit, Ursa e tutte le altre aziende presenti a Clima House ovviamente proporranno tantissimi argomenti, gli argomenti di quest'anno sono legati molto alla sostenibilità edilizia, ma anche molto a quello che è puramente l'efficienza energetica. Sappiamo che Superbonus 110 ci sta dando delle grosse opportunità, quindi cercheremo di ovviamente sfruttarle al meglio. Durante la manifestazione ci saranno tantissimi eventi, Ursa propone un panel di relatori di altissimo livello e quindi mi auguro che siate sempre presenti durante i tre giorni di manifestazione e possiate seguire appunto tutte quelle che sono le attività sia che Ursa e Anit potranno portare avanti e potranno presentare. Grazie a tutti e buona manifestazione.